e parliamo di integrali indefiniti definizione allora la seguente scrittura integrale di fx in dx uguale a f grande x più c va intesa come la determinazione della primitiva della funzione fx che è la seguente che noi chiamiamo funzione integranda quindi qui facciamo riferimento naturalmente a questa seconda funzione che chiamiamo primitiva e ricordiamo che una funzione fx è primitiva se la sua derivata quindi la derivata di f grande x più c dà come risultato la funzione fx la funzione integrande f con x dove f grande x è una primitiva di f piccolo nell'intervallo i quindi se accade che la derivata di f grande è uguale alla funzione integrande fx il problema è stato risolto quindi risolvere un integrale indefinito significa, lo ripetiamo, determinare una famiglia di funzioni che riferiscono per una costante c che si chiamano appunto primitive ed è un problema già l'abbiamo detto in precedenti video lezioni è un problema inverso dell'operazione di derivazione si può dimostrare che tutte le funzioni f piccolo x continue in intervallo i hanno sempre una primitiva f grande con x questa è la garanzia dell'esistenza delle primitive per funzioni f con x che sono continue in un intervallo i un'altra cosa importante invece riguarda quella che noi definiamo la linearità dell'integrale ora perché si parla di linearità dell'integrale? si parla di linearità tutte le volte che rispettata la prima proprietà che è la seguente integrale indefinito di una costante per la funzione fx index index è uguale alla costante portata fuori dal segno integrale per l'integrale indefinito di fx index ricordiamo che questa scrittura risponde alla determinazione di una funzione che chiamiamo appunto primitiva oppure l'integrale della somma di due funzioni f più g index è la somma degli integrali delle due funzioni e con queste due proprietà rientrano in quelle che si chiama appunto la linearità dell'integrale indefinito vediamo adesso un metodo di integrazione che si chiama metodo di integrazione per parti abbiamo visto fino diciamo adesso fino ad oggi che alcuni integrali rientrano nella categoria di integrali immediati che si possono risolvere ricordando appunto le derivate fondamentali quelle elementari altri si possono risolvere con il metodo per sostituzione abbiamo visto con alcune applicazioni altri invece si può fare una decomposizione della frazione se abbiamo integrato una funzione fratta f fratto g con opportune operazioni si può decomporre sempre che il grado del numeratore sia maggiore uguale del grado del denominatore esiste anche il metodo di integrazione per parti che si formano in questo modo l'integrale di f per g primo di x quindi qui l'aluno deve individuare in una delle due funzioni prodotto qui non c'è la somma la derivata di una funzione è uguale ad f per g meno l'integrale di f primo g di x praticamente l'integrale di partenza è il seguente e si risolvia risolvendo questo secondo membro vediamo che nel secondo membro compare un secondo integrale che vale la pena risolvere se è più semplice di quello di partenza quindi ha senso applicare questo metodo se il secondo integrale che genera è più semplice del primo da risolvere un esempio pratico l'integrale in definito di x al cubo per il logaritmo di x in dx l'aluno deve individuare chi è f e chi è g primo g primo ricordiamo che dobbiamo pensare come la derivata di una funzione di una primitiva quindi io questo per semplicità indico con f il logaritmo di x perché nella mia testa immagino che il secondo integrale ponendo f uguale al logaritmo di x sia più facile di questo pongo g primo x al cubo quindi g sarà l'integrale di x al cubo in dx quindi questo per trovare la sua primitiva e con questo tipo di operazione quindi g e x alla quarta quarti primitiva di x al cubo l'operazione è che l'integrale di partenza x al cubo per il logaritmo di x in dx chiamando con f il logaritmo naturali di x e con g la primitiva di g primo che è x alla quarta quarti sarà f per g meno l'integrale di g che è questo per la derivata di f che è uno su x vediamo che con questa semplificazione questo integrale adesso è più facile del primo da risolvere quindi provvederò a risolvere questo integrale che sommata come soluzione alla prima fornisce la primitiva dell'integrale di partenza vediamo che questo è lo sviluppo che sta proseguendo e a un certo punto determino quindi il primo membro che è x alla quarta quarti per logaritmo naturali di x meno un sedicesimo x alla quarta più c che è la primitiva cercata quindi questo secondo integrale risolto a questa come primitiva che è la cui soluzione sommata da precedente fornisce la primitiva dell'integrale di partenza quindi questa è un'applicazione del metodo di integrazione per parti qui presenterò una serie di esercizi risolti di difficoltà graduale nel senso che interessa capire la tecnica si seleziona una parte diciamo degli esercizi che giuramente si propongono durante un'esercitazione il primo è il seguente l'integrale in definito x al quadrato più sen x in dx proprietà della linealità somma di due integrali indefiniti facile da risolvere quindi qui è x al cubo al terzo la primitiva di questo integrale mentre meno cosin x la primitiva del secondo integrale più la costante è c quindi famiglia di primitive qui invece abbiamo una frazione dove il numeratore è a grado minore del denominatore si fa questa decomposizione a un certo punto il primo integrale indefinito ha come primitiva il logaritmo del modo di x e il secondo si può scrivere come x elevato alla meno 2 quindi x alla meno 1 fratto meno 1 che è meno 1 su x più c questa è la primitiva cercata di questo integrale indefinito qui abbiamo l'integrale indefinito di 2 seno di 2x in dx metodo di sostituzione pongo 2x uguale a t differenzio ambi membri faccio le dovute sostituzioni ricavo questa primitiva della funzione di partenza che è meno coseno di 2x più c ricordando che t è posto uguale a 2x qui abbiamo un altro integrale indefinito abbiamo posto x quadro uguale a t differenzio ambi membri faccio le sostituzioni la primitiva è uguale a della t più c ovvero e x quadro più c qui abbiamo il polinomio di quarto grado 3x alla quarta meno 2x al cubo più x meno 1 proprietà additiva integro cioè risolvo i singoli integrali indefiniti trovo le singole primitive che sommate forniscono la primitiva dell'integra di partenza che è questo qui invece abbiamo una fratta dove il numeratore è a grado minore del denominatore quindi facciamo una sostituzione di questo tipo vediamo che funziona diventa 1 su t dt che è facile da risolvere la cui primitiva è logaritmo del modulo di t più c modulo che si può ovviare in quanto abbiamo che è l'argomento x quadro più 1 e la primitiva è logaritmo di x quadro più 1 più c questo altro integrale lo scrivo in questo modo x elevato a 7 quinti risolvo normalmente questa è la primitiva 7 su 12 radice settima di x radicesima più c qui invece per questo applico il metodo di integrazione per parti pongo f uguale a x g primo è la x gu quindi è la x e questa è la primitiva x per è la x meno è la x più c diciamo che con questa ultima slide terminiamo la video lezione e si invita l'uno a consultare precedenti video lezioni sul tema integrale indefinito e di consultare anche il sito madepetracca.blogspot.fit fine della video lezione grande grazie a tutti